Buongiorno a Massimo Guerrieri che è titolare di Q Consulenze Finanziarie, bentornato. Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti. E buongiorno ad Antonello Cattani, responsabile della formazione di Q Consulenze Finanziarie, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Guerrieri, come sempre partiamo dall'attualità per capire meglio cosa sta succedendo sul fronte economico. In primo piano ci sono ancora le notizie riguardando le crisi bancarie, cosa sta succedendo? Sì, è un must che si ripete. Dovremmo abituarci, è un mondo molto volatile dove le cose cambiano in maniera repentina e anche molto veloce vista la globalizzazione. Ecco, giusto per far capire a chi ci ascolta cos'è successo in America e perché sta coinvolgendo un po' tutto il mondo. E ultimamente appunto ha fatto crollare parecchie titoli azionari. Silicon Valley Bank è una banca importante in America che ormai da diverso tempo supporta e sostiene le aziende tecnologiche americane. E ovviamente ne raccoglie anche i depositi. Con la crisi del mercato tecnologico sono venuti a mancare nuova linfa, quindi nuovi depositi. E le riserve che aveva questa banca in Treasury, il Treasury è paragonabile al BTP italiano, visto il rialzo dei tassi è crollato. E quindi è andata in crisi di liquidità. Questo ha causato una corsa agli sportelli. Noi sappiamo che nessuna banca si può permettere la corsa agli sportelli. E di conseguenza ha dovuto vendere tutte le riserve che aveva appunto in Treasury, andando a consolidare una perdita importante. La Fed è intervenuta immediatamente chiudendo la banca perché non aveva più depositi da poter dare. E facendo intervenire il fondo interbancario americano che ha garantito a ogni depositante un minimo di 250 mila dollari. E la cosa, ovviamente noi cos'è che ci dobbiamo chiedere? Perché poi insieme all'Asilo Convalet Bank sono andate in difficoltà anche altre banche americane. E nello stesso tempo contestuale qua in Europa abbiamo il caso di Credit Suisse. Quindi Credit Suisse, qua sono stati bravi gli svizzeri a fare un'operazione lampo, ovvero UBS ha comprato, grazie al sostegno della Banca Nazionale Svizzera, ha assorbito, fuso in sé, ha incorporato la Credit Suisse. Non sono collegate, non sono nate insieme, per gli stessi motivi. Perché, esatto, è bene collegarle. Perché entrambe hanno radici diverse. Abbiamo detto in America la crisi dell'industria tecnologica su cui è rifondata questa banca, la Silicon Valley Bank, e in Europa, diciamo, operazioni scellerate che Credit Suisse ha fatto nel tempo e che solo ora i nodi sono venuti al pettine. Cos'è che le accomuna? Le accomuna il calo importante delle riserve obbligazionari. Ovvero, io per legge banca devo accantonare una parte, una riserva, che normalmente vado a investire in titoli di Stato. Loro cosa hanno fatto? Queste riserve, sappiamo che fino a un anno fa i rendimenti erano nulli, per avere un po' di rendimento si sono esposti con scadenze molto lunghe. Nel momento in cui i tassi hanno iniziato a rialzare, i prezzi sono scesi, ma anche di molto, specialmente sulle scadenze lunghe. È un po' quello che vediamo sui fondi obbligazionari. Chi ci ascolta, chi ha fondi obbligazionari, avrà notato come in quest'ultimo anno le obbligazioni hanno avuto cali da un meno 10 a un meno 30. Quindi venendo a mancare il supporto della riserva e da una parte i nuovi ingressi e con Credit Suisse operazioni scellerate, hanno fatto sì che le prime, che avevano già il fiato corto, quindi alla prima difficoltà, poi hanno dovuto chiudere. Perché dico questo? Perché ovviamente chi paga il conto normalmente sono gli azionisti. Quindi nel caso americano, oltre agli azionisti, perché la banca è proprio stata chiusa, fallita, anche i depositanti sopra i 250 mila euro. Nel caso di Credit Suisse, gli obbligazionisti, quindi chi aveva obbligazioni si stanno trattando in questi giorni, ma spare che chi aveva obbligazioni non verrà rimborsato, e anche gli azionisti, perché nel concambio Credit Suisse UBS, diciamo che c'è stata una perdita del 75%. Cioè il titolo Credit Suisse valeva più o meno 2 franchi ad azione, con il concambio vale 0,50, perché ovviamente hanno fatto un concambio Credit Suisse con azioni UBS. E quindi hanno perso il 75%. Quindi questo, perché? Perché è bene che chi ci ascolta, quando noi consigliamo di usare la liquidità per cercare opportunità, e quindi non farsi prendere la fretta di investire, ma nello stesso tempo essere consapevoli che un'inflazione è alta, e modulmente rimarrà alta ancora per un po', e dall'altra parte andare a vedere sugli investimenti in essere i rischi che sono presenti per poi toglierli, li diciamo perché i rischi ci sono, li vediamo. E come anche questa crisi insegna, ma come ormai parliamo di 10 anni di crisi, perché i primi fallimenti bancari ne parlavamo qui nel 2015. Insomma, fallimento bancario vuol dire perdere azioni o perdere obbligazioni. Ecco, quindi dobbiamo essere più prudenti perché è un mondo che è più rischioso. Quindi, l'invito che io faccio è proprio quello. A volte basta fare poche cose, ma bisogna farle bene. Quindi, se questo è il quadro appunto delle notizie, abbiamo capito meglio anche grazie appunto a questa analisi, due domande. Il primo è se allora non sono casi isolati o sono casi isolati, e poi quali sono le conseguenze poi sui nostri risparmi? Sì, allora abbiamo parlato un po' delle banche europee rispetto a quelle americane. Quindi diciamo che uno dei problemi, che è un po' un altro problema che c'è stato, è anche che questi istituti che sono di medie dimensioni, quelli che abbiamo citato prima, in America sono sottoposti a una vigilanza abbastanza blanda, tra virgolette, mentre in Europa diciamo che i controlli sono un po' più ferri. C'è l'EBA, che è l'autorità europea, che sottopone periodicamente gli istituti a dei test, che hanno stress test, dove simulano, diciamo, un po' queste situazioni di possibili difficoltà. Quindi di conseguenza, vediamo qualche articolo, ci siamo un po' affrettati a dire, no, in Europa va tutto bene, tranquilli, eccetera, eccetera. Se guardiamo però i numeri, magari nella diapositiva successiva, parliamo dove le banche europee complessivamente detengono 3.300 miliardi di obbligazioni di cui parlavamo prima. Quindi un po', diciamo, in grande, come dicevamo, la situazione che hanno un po' anche i piccoli risparmiatori. Cioè se io ho investito in un bond a 100 e adesso vale 90, se posso permettermi di aspettare la scadenza a 100, diciamo che questa perdita in realtà non mi tocca. Cioè io aspetto e porto il titolo a scadenza. Per le banche è un po' la stessa cosa. Cioè se la banca, che hanno queste cifre, che sono numeri importanti, possono portarli a scadenza senza danni, diciamo che il problema non c'è. Se però devono venderli, perché c'è una crisi di depositi, cioè i depositanti vanno a ritirare le somme, ecco che anche le banche potrebbero poi avere qualche problema. Perché se io devo andarli a vendere sul mercato, questa perdita che al momento è teorica, potrebbe realizzarsi e quindi creare dei problemi. Un po' quello che dicevamo prima. Cioè le banche non possono permettersi una corsa agli sportelli. L'attenzione deve essere alta, perché in America il problema è stato accentuato, in quanto i tassi dei titoli di Stato sono molto alti. Cioè oggi un titolo di Stato a sei mesi americano rende dal 4 al 5%. Per cui il depositante dice, ma perché devo lasciare i soldi in banca a zero, quando posso prendere molto di più con un titolo di Stato più sicuro? E quindi c'è stato questo deflusso, parliamo di 500 miliardi di dollari, non 2 lire, che ha messo in difficoltà il sistema. Ecco, se avvenisse anche in Italia e in Europa un discorso di questo genere, dove i tassi sono più bassi, però potenzialmente potrebbe avvenire. Quindi diciamo che i rischi non sono così teorici, ma potrebbero anche ripresentarsi. L'altro aspetto è quello del cosiddetto contagio. Cioè visto che le banche sono comunque interconnesse tra di loro, perché si fanno prestiti a vicenda, questo potrebbe anche determinare un inizio. Il 2008 è accaduto così, è una piccola banca, poi determinata un po' una falla molto più ampia. Quindi ci auguriamo di no, però teoricamente non è escluso che è. Poi c'è un messaggio, lo leggo insomma alla fine di questo approfondimento, intanto per mantenere anche il filo delle riflessioni, le volevo chiedere, quindi Guerrieri, oltre a questi aspetti che ci avete detto, ci sono altre questioni e dobbiamo tenere in considerazione altri rischi? Sì, come accennavo prima, noi ci aspettiamo che un'inflazione in calo, ma che rimanga sempre per qualche anno ancora tra un 5 e un 10%, e quindi questo ovviamente non è un bene, non solo per i risparmiatori, ma anche per le aziende, per l'economia reale. Si parla sempre più di recessione, anche Powell negli ultimi interventi ha proprio accennato che per far calare l'inflazione bisogna far aumentare la disoccupazione, quindi accettare una recessione, poi la scommessa è soft lending o hard lending, cioè atterraggio morbido o atterraggio duro, ma è chiaro che se, noi la vediamo nel breve come rischio più alto, ovvero se le banche centrali saranno costrette, nonostante appunto questi problemi legati al mondo obbligazionario e alle banche, ad aumentare i tassi, l'altro rischio forte che noi vediamo è proprio il rischio recessione. Sui mercati finanziari ci aspettiamo una volatilità alta, che vuole dire rischi e opportunità, quindi al fronte di verificarsi determinati eventi avremo crolli sui mercati, così come a fronte di rassicurazione da parte delle banche centrali o dei governanti avremo dei rialzi importanti. E quindi in questo mercato molto volatile è bene avere la sicurezza che i propri investimenti abbiano delle garanzie di qualità per non essere delle bande a ruolo al vento e farsi prendere da questi forti venti al di là che siano positivi o negativi. Ma stiamo sottovalutando, secondo lei, la situazione oppure no? Diciamo che gli investitori, secondo noi sì, secondo noi gli investitori lo stanno sottovalutando, cioè non si stanno rendendo bene conto che stiamo navigando in acque mai navigate prima e di conseguenza va presa sul serio. Noi non abbiamo mai avuto in epoca di globalizzazione un debito così mostre, come suol dire, con le banche centrali che stanno cercando di rimanere, di tenere la rotta, ma ovviamente stanno navigando a vista perché anche per loro è una novità ritrovarsi con un debito così enorme da gestire, con un'inflazione così alta e con, come diceva Antonello, un mercato obbligazionario che può mettere in difficoltà tutti, dagli investitori alle banche. Quindi insomma non dobbiamo però farci prendere dalla paura, visto che il termine paura lo troviamo spesso anche sui quotidiani economici. Sì, è per questo che noi veniamo qui regolarmente ormai da dieci anni per cercare di insegnare a chi ci ascolta non solo a gestire la propria emotività, ma proprio anche far sì che i propri risparmi siano protetti e in grado di far fronte a un'inflazione. È chiaro che oggi con un'inflazione, ti dico, tendenziale al 7% nei prossimi 3-4 anni è una sfida sempre più importante, però le sfide sono poi anche fatte per essere vinte. Ecco, quindi l'importante penso che non sia sottovalutare. Cioè quando parliamo, ormai sono diversi anni, ma perché poi li vediamo le cose, di analizzare i rischi, lo diciamo perché spesso e volentieri appunto l'investitore sottovaluta l'analisi del rischio che ha. Quindi i risparmiatori cosa dovrebbero fare? Quali sono i consigli pratici per noi, i piccoli risparmiatori? La cautela noi la predichiamo ormai da anni, quindi anche in questo periodo sicuramente ancora a maggior ragione. Poi come dicevamo prima, l'invito è proprio vedere, abbiamo sempre parlato con un po' il problema, tra virgolette, un po' questo sistema del risparmio gestito, fondi comuni di investimento, dove il risparmiatore effettivamente non sa dove sono stati investiti i soldi. Quindi negli ultimi anni, soprattutto quelli obbligazionari, i gestori per prendere appunto un rendimento in epoca di tassi zero, si sono assunti molti rischi, ad esempio non dimentichiamo le cosiddette obbligazioni subordinate, che sono quelle più a rischio, cioè che dove una banca va in difficoltà sono le prime ad essere azzerate. Quindi sappiamo, il risparmiatore sa quante potenziali obbligazioni eventualmente di questo genere ha nel proprio fondo comune, molto probabilmente no. E quindi anche andare a capire il grado di rischio che c'è è a nostro avviso fondamentale. Però voi riuscite a capirlo invece. Certo, andando a vedere, diciamo dentro il contenitore, tra virgolette fondo, si riesce a capire il grado di rischio di quel fondo lì. Quindi se è un fondo che ha obbligazioni, titoli di Stato, a breve si può stare tranquilli. Se però ci sono titoli potenzialmente a rischio che possono essere azzerati, abbiamo visto quasi da un giorno all'altro, forse qualche domanda è bene farla. Per cui il check-up, di cui dicevamo prima, che tra l'altro è gratuito in prima battuta, è altamente consigliabile in questa fase. Quindi insomma per avere un'idea di quali sono anche i modi in cui ognuno di noi ha investito e insomma avere poi dei consigli da esperti è importante perché insomma soprattutto in questo ambito il fai da te non è molto raccomandato. Guerieri, altro consiglio per i telespettatori, per i risparmiatori, le aggiungo anche un messaggio che per me è criptico, ma lei capirà sicuramente. Un signore scrive, ho acquistato BTP SC28. È un affare? Non so se è scadenza. Scadenza, 2028. 2028. Sì, come dicevamo prima, allora due cose. Antonello ha detto che è bene andare sui titoli singoli rispetto che sui fondi comuni perché io ho esattamente la percezione di quanto rischio e quanto investo e quanto avrò a scadenza. Quindi in questo caso l'investitore ha fatto bene a nostro avviso tra l'altro è bene giusto una postilla che ci sono dei BTP che non hanno a cedola, si chiamano zero coupon che permettono di recuperare le minusvalenze. Un'altra cosa che anche qui guardi... Ne avevamo parlato ma sì perché la legge permette di recuperare se io ho una perdita di non pagare le tasse il famoso capital gain per i prossimi 4 anni. Devo solo usare dei titoli singoli piuttosto che delle materie prime ma anche i titoli singoli azioni e obbligazioni. Cioè se io vado a investire su un fondo comune e su uno guadagno e uno perdo su quello che guadagno pago le tasse su quello che perdo mi rimane la perdita. Se compro due titoli su quello che guadagno e quello che perdo si compensano e non pago le tasse almeno su quello che guadagno. quindi ecco anche i BTP quindi noi li consigliamo con scadenze non troppo lunghe perché hanno non solo danno un rendimento certo insomma l'Italia nel breve non è previsto che fallisca. Quella è una scadenza considerata breve o lunga scadenza? Quella è una scadenza media quindi il 2028 lì bisogna fare dopo un discorso di asset allocation che vuol dire? Asset allocation quindi un'allocazione in base agli obiettivi ecco se guardiamo il titolo singolo quindi perché normalmente è bene avere noi abbiamo nella nostra vita abbiamo diversi obiettivi dal cambiare la macchina al prossimo anno a cambiare la casa tra dieci anni quindi l'investimento la durata va paragonata in base andando quindi prima tolgo i rischi poi mi faccio un asset in base a quando devo spendere i soldi è una cosa che è molto semplice non fa quasi nessuno noi siamo ancora ma lo predichiamo da anni è una cosa incredibile quando vengono da voi e fate questa giusta riflessione che sembra semplice ma le persone alle persone si aprono dei mondi forse è vero? Sì perché la consulenza è questa poi ecco ci c'è il singolo titolo perché già almeno ecco andare a dire questo titolo guarda non rischi sai che ha scadenza mal che vada se non fallisce l'Italia ma insomma non è previsto poi non andiamo troppo lunghi ecco io il 2028 la vedrei proprio come scadenza ultima siamo anche su 2026 ecco però visto che oggi quindi almeno vado a privilegiare un discorso di sicurezza poi oggi il BTP rende il 3% l'inflazione oggi è attorno all'8 direi 8-9 quindi dovrò andare a vedere le opportunità per compensare quel rendimento in base agli obiettivi insomma diventa una cosa anche bella è entusiasmante e invece vedo sempre persone che subiscono questa pesantezza con dei meno sono sempre in periodo quindi sono bloccati e noi dobbiamo recuperare noi dobbiamo recuperare sempre ormai facciamo da 20 anni i danni fatti da altri se volete essere felici o i vostri investimenti venite prima andate da concorso ma no perché insomma almeno ci divertiamo no ma è così insomma direi che questo consiglio è il migliore che possiamo dare no? ci si diverte con la scienza i calcoli l'esperienza la professionalità la tecnica non si è condannati a perdere no no esatto una cosa importante il denaro rimane in banca cioè una banca che fa la banca cioè gestisce i nostri risparmi per legge ma le scelte è bene che inizino i risparmiatori a farli in proprio e se con il nostro aiuto siamo ben contenti ma bisogna un attimo svegliarsi e allora i riferimenti di consulenza finanziaria li avete li avete visti e appunto c'è l'opportunità del check up e quindi approfittatene insomma per essere persone felici e non risparmiatori paurosi esatto ma è così grazie grazie per essere stati con noi e per tutte le informazioni che ci avete aiutato a capire meglio adesso c'è la pubblicità e poi ci sono le pillole di botanica grazie a tutti grazie a tutti